Ciao Quessantino e benvenuto a Investing Roma 2022. Cosa proponete oggi qui in questa bella manifestazione? Sì, quest'oggi siamo presenti qui come TopFX e abbiamo invitato a questo evento molti dei nostri partner. Come sempre ecco il centro della nostra attenzione rivolto alla formazione ed educazione finanziaria, quindi anche tutti i servizi che offriamo tramite i nostri partner hanno questo scopo, quindi scopo educativo. Quindi è iniziata la giornata con la presenza di Nicola Para in sala trading che ci ha rappresentati, poi abbiamo avuto l'intervento di Salvatore Labriola e Salvatore Bilotta che hanno presentato uno strumento gratuito che diamo ai clienti di TopFX, il Power Forex, quindi analizzato l'NFP con questo strumento e ci sarà anche più tardi l'intervento di Pietro Pacello che anche lui rappresenterà quest'oggi TopFX. Poi allo stand anche abbiamo preparato un ricco programma dove c'era la possibilità di incontrare alcuni dei nostri partner come ad esempio Fabrizio Alessandro di MQL Suite, Emiliano Monza, abbiamo fatto trading live sia con MQL Suite che Emiliano Monza, quindi ecco abbiamo avuto parecchio pubblico allo stand, è un programma sicuramente molto interessante e invitiamo tutti gli utenti interessati a provare gratuitamente, ripeto, i nostri servizi. Grazie Costantino e buona permanenza qui a Investing Roma 2022. Grazie a voi, sempre un piacere.